Oggi Casa Massima si sveglia con la sua vittoria, in realtà già quasi sfiorata al primo turno, da dove si parte? Diciamo che al primo turno abbiamo sfiorato la vittoria, abbiamo trascorso poi altri 15 giorni di una bella campagna elettorale, devo dire. I toni sono stati più o meno contenuti tra le varie parti. Vorrei essere sincero, il mio competitor Agostino Mirizio è una persona assolutamente per bene. Quello che ha fatto la differenza in questa campagna elettorale, quello che ci ha portato alla vittoria è stata la squadra. Chiaramente essendo partiti molto presto a dicembre del 2017 abbiamo avuto la possibilità di costruire un progetto un po' più consistente. Abbiamo integrato all'interno della nostra squadra persone che da sempre hanno dato del tu alla politica e questo ritengo abbia fatto la differenza. Io vorrei approfittare per fare le congratulazioni ad Agostino Mirizio, che è una persona che fa politica da tanti anni, è stata una persona che mi ha rispettato in questa tornata elettorale. E quindi faccio gli auguri a me, faccio gli auguri alla mia squadra, ma vorrei fare anche gli auguri ad Agostino e a tutte quelle forze politiche che siederanno in opposizione e con le quali io gradirei avere un rapporto assolutamente collaborativo. In Puglia, possiamo dire, hanno vinto le liste civiche. Cosa sta succedendo alla politica oggi? Vedete, noi sin dalle esordi abbiamo puntato sul civismo. Abbiamo ritenuto da una nostra analisi, che poi è stata l'analisi corretta, che i partiti tradizionali avessero in quest'epoca dei problemi. dei problemi dovuti alla distanza tra i partiti e i cittadini. Chiaramente i cittadini oggi sono delusi, sono mortificati da quello che è stata l'evoluzione innaturale del rapporto tra politica e comunità.